Ciao a tutti e bentornati nella nostra sede di San Zeno Naviglio alla scoperta della gamma DR. Oggi siamo in compagnia della 6.0, il Voyager SUV della gamma. Qui si inizia a parlare di un veicolo ricco di spazio e delle dimensioni importanti. Misura infatti 4,5 metri in lunghezza, 1,84 in larghezza e 1,74 in altezza. Esteticamente si presenta come un mezzo imponente, con un design moderno e accattivante, grazie alla grande calandra che occupa praticamente quasi tutta la parte frontale. Arriva infatti fino a filo del cofano. Completano l'opera i gruppi ottici con questo sviluppo orizzontale, molto aggressivi, e l'alloggio dei fari di posizione, che al suo interno ha due file di LED. Lateralmente dimostra tutta la sua imponenza, grazie alla considerevole altezza della terra. Il cerchio A19 con questo design molto particolare, le decorazioni sotto porta e i finestri inoscurati. Al posteriore il protagonista è il gruppo ottico a LED, che percorre tutta la larghezza del veicolo e si estende anche un poco sulla parte laterale. Come design devo dire che è super azzeccato, molto in linea con l'estetica accattivante di questo modello. Troviamo poi lo spoiler, i loghi, le bocchette di scarico e il portellone elettrico, che si può aprire attraverso il telecomando. Puoi decidere infatti di chiudere o aprire manualmente le porte, alzare o abbassare i finestrini, incluso il tetto panoramico. I colori disponibili sono sei, rosso, blu, grigio, argento e bianco. Passiamo agli interni. Anche qui troviamo un design raffinato e dettagliato, con l'utilizzo di diversi materiali. Abbiamo le luci LED nell'abitacolo, strumentazione digitale, schermo touch e qualche tastino analogico per comandare l'infotainment. La luminosità dell'abitacolo è completamente regolabile tramite il comando a tendina. I pulsanti al lato del sedile consentono di regolare l'altezza, lo schienale, la seduta e il supporto lombare. La climatizzazione all'interno della vettura è personalizzabile. Puoi scegliere tra modalità automatica e manuale, gestendo due zone separate o sincronizzandole per una temperatura uniforme, come se fosse un monozona. Nel tunnel centrale si trovano i pulsanti fisici per selezionare le modalità di guida come eco o sport che influenzano la risposta della vettura. Puoi anche gestire le telecamere del veicolo per utilizzare la retrocamera o la modalità 3D per una vista panoramica. Con questo tasto si attiva il sistema HDC che mantiene costante la velocità nelle discese ripide senza che il conducente debba agire su acceleratore e freno. Questo alloggio nel tunnel centrale consente di caricare il tuo smartphone tramite la ricarica in induzione, rendendo tutto più comodo. Sotto abbiamo due ingressi USB, uno dei quali è per collegare e gestire la riflessione del nostro cellulare nello schermo centrale, mentre l'altro è una presa di ricarica. Sul computer di bordo, situato davanti al volante, puoi accedere a informazioni come la pressione degli pneumatici, il chilometraggio, ecc. Il volante multifunzione offre comandi per il volume, le chiamate e il controllo vocale del cellulare, oltre a facilitare l'uso del cruise control per una guida più confortevole. Il cambio ha un design elegante e sta proprio bene in questa console nera lucida. Nei sedeli posteriori troviamo due ganci Isofix che risulteranno nascosti per rapporre il vostro seggiolino. Il bagagliaio è spazioso così come tutta l'auto, va da un minimo di 380 a un massimo di 1700 litri. Per quanto riguarda la motorizzazione, troviamo sul cofano un motore 1.5 turbo da 150 CV a benzina, oppure nella variante B-Fuel benzina e GPL. Infine, è equipaggiato con un cambio CVT a 9 rapporti. Cosa ne pensate di questa DR 6.0? Come sempre, grazie per essere stati qui con noi. Passa a trovarsi nella nostra sedia di San Zello Naviglio per poter vedere tutta la gamma DR. A presto! Grazie per la visione! Grazie a tutti.